ecco che cosa resta della follia di ieri allo stadio di port saeed le strutture divelte spaccate ma soprattutto sangue molto sangue sulle sedie sul suolo e poi vestiti scarpe lasciati in terra da chi è fuggito e da chi non ce l'ha fatta la disperazione delle madri mio figlio dice questa donna alla stazione del cairo dove i parenti dei tifosi aspettano ancora i loro figli mio figlio non risponde al telefono da ieri sera e voglio sapere dov'è si chiama suleiman ahmed al saburi ha 18 anni cercatelo vi prego cercatelo nella la notte centinaia di abitanti di port saeed si sono raccolti davanti agli ospedali per donare il sangue dice questo ragazzo sono venuti sia quelli che erano a casa sia molti di quelli che erano allo stadio uomini e donne per dare il sangue perché gli ospedali l'hanno finito una piccola riparazione offerta dagli abitanti di port saeed all'orribile violenza e alla follia che ha indotto gli ultras della squadra di casa l'al masri a organizzare una caccia all'uomo ai danni dei tifosi dell'altra squadra la squadra ospite l'al ali un testimone un tifoso dell'al ali quelli là ci hanno detto abbiamo portato i sudari per i vostri funerali e poi ci hanno attaccato e noi abbiamo cercato di scappare nel tunnel che portava fuori ma le porte erano chiuse con catene le luci erano spente accanto a me c'era un ragazzo di 17 anni il suo nome era islam e improvvisamente l'ho visto trafitto da un punteruolo e un occhio gli ha schizzato via dalla testa la bandiera dei tifosi dell'al ali cioè della squadra delle vittime porta il simbolo del teschio il che la dice lunga sul livello di violenza che questi ultras si portano dietro il bilancio finora di 73 morti i feriti più di mille di mille